benvenuti in questo nuova serie di video tutorial dedicati alla nuova versione di arcadia lt14 oggi vediamo come procedere alla attivazione della licenza allora qui abbiamo le nostre due icone gestore licenza che ci servirà per attivare la licenza e l'installazione ovviamente di arcadia lt14 doppio clic su license manager 4.7 versione nuova che permette quindi di avere una nuova gestione delle licenze online di arcadia soft andiamo avviata appunto il programma andiamo seleziona file e ci porterà quindi sulla cartella della gestione delle licenze in questo caso io vado a utilizzare le mie licenze licenza che utilizzerò su questa postazione ricordo che le licenze sono attivabili su singola postazione per volta andiamo su arcadia 14 eccole qui e andiamo quindi 3d maker architettura paesaggio bim e ifc automaticamente andremo quindi a cliccare su installa una volta che le licenze sono state installate non ci resta che avviare doppio clic sull'icona di arcadia lt14 vedremo che la licenza verrà attivata e visibile quindi qui in alto con scritto intestatario della licenza per procedere alla disattivazione delle licenze in modo tale da poter poi installare il software su un'altra postazione andiamo ad avviare di nuovo quindi chiudiamo arcadia doppio clic sul gestore delle licenze selezioniamo tutto e facciamo rimuovi licenza in questo modo mi permetterà quindi cliccando su sì di disattivare quella che la licenza e quindi poterla utilizzare per l'attivazione su una nuova postazione